Buona giornata. Nel Vangelo Domenicale di ieri abbiamo letto la seconda parte del discorso sul Buon Pastore. Oggi ci troviamo a leggere la prima parte di questo discorso che si trova al capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. Nel testo che leggiamo oggi Gesù associa l'immagine del Pastore alla porta. Sarà un'immagine ripresa dall'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e busso. Attraverso questa porta, che noi possiamo aprire liberamente, Gesù ci conduce fuori dal recinto, ci porta dove troviamo Pascolo, ma non ci lascia lì da soli. Cammina con noi e cammina davanti a noi. Ancora nel brano di oggi Gesù ci assicura che come Pastore vuole darci la vita e vuole darci la vita in abbondanza. Gesù ha davanti a sé i tempi di Dio e come Dio può donarci d'eternità. Per questo, nella seconda parte che abbiamo letto ieri, Gesù si definisce il Buon Pastore, cioè il Pastore per eccellenza. Il Pastore che sa dove condurci e come condurci per avere il dono dell'eternità. Allora oggi, lassiamo che Gesù sia la porta del nostro cuore, che si apre all'eternità. Buona giornata.